Vi faccio vedere i miei acquisti dell'ultimo periodo. Intanto volevo farvi vedere queste orecchie che ho preso a Disneyland perché una volta tornata dal viaggio sono stata male e non ho fatto in tempo a farvi vedere cosa ho preso lì. Quindi sì, ho preso queste orecchie e anche questa tazza di Starbucks che è trovabile solo a Disneyland, nello Starbucks che c'è fuori dal parco. Stupenda! Ho preso anche le orecchie a tema sirenetta e questa t-shirt con il simbolo della Disney per il Pride. Ma passando agli acquisti fatti invece qui in Italia, da Tiger ho trovato questa tazza natalizia e non ho saputo resistere. Ho anche preso questa decorazione halloweenosa che è un fantasma che si accende, non so se vedete. Da Bath & Body ho preso questo bagno schiumane e la profumazione all'ambra che non avevo mai provato ed è buonissima. Questa mini candela che ha sempre una profumazione super calda da casa e un'altra candela. Questa è la profumazione e sa di cannella super cozy, buonissima. Da Tiger ho trovato anche questo diario natalizio, però io me lo immagino esposto in casa come decorazione. Da H&M Home, come avete visto nel vlog, ho trovato tutti questi bigliettini di auguri, di buon compleanno e li ho trovati super cute. Da Nespresso sono andata principalmente perché volevo acquistare le cialde a tema Pumpkin Spice che sono buonissime. Già che c'ero ho preso anche questo che è un espresso normale e quello è il caramello che sono buonissime. Ma non è finita qui perché ho acquistato anche qualche vestito. Da Bershka mi sono innamorata di questo corsetto che si lega sulla schiena con questo nastro. È veramente bellissimo. Sempre che le ho passione corsetti ho anche preso quest'altro di Bershka, sempre che si lega sulla schiena. E ha questa fantasia fiorata. Rifornimento di calze da Primark, mollettine autunnali di Primark, altra cosa natalizia, sempre di Primark. Ho trovato questo maglione a tema Disney, è stupendo. Da H&M Home ho trovato questi tovagliolini con i funghi, non potevo non prenderli. Vi giuro è l'ultimo ma sì, ho preso un altro maglione natalizio, sempre di Primark. Da Abercrombie ho preso questa giacca che, devo dire, è super autunnale perché è di questa finta pelle color beige, tra l'altro ha anche le spalle rinforzate. E ha proprio la lunghezza perfetta come piace a me, un po' oversize. E questo era tutto, sappiate che in questo periodo sono molto in vena di acquisti, quindi per altre haul seguitemi.